ciao ragazzi un saluto dal tarfone benvenuti in questa enesima battaglia spero che il video di ieri con me e max vi sia piaciuto allora oggi come ha detto il buon torah vediamo Sranesh contro gli alti elfi che è Tyrio contro Nkari e io ho provato a fare una cosa semplice semplice mando questi al macello e con gli altri più le furie qua a fianco cerco di prenderli da dietro vediamo un attimino come sono messi loro sono esattamente dalla parte opposta ok intanto questi attaccano queste lo mandiamo sui le furie guarda che belle che sono le furie che li prendono da dietro ok qua abbiamo i carri aspetta no qua c'è ma questo è sotto attacco però io comincio a fare disciplina non si può spostare vedo che arrivino in corpo a corpo ora che vengono a rompermi le scatole ok questi qua questi qua non si può spostare vediamo un'altra parte diciamo ok 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 andiamo una bella frustata in the face arriviamo con una carica sul fianco difesa corpo a corpo e diminuiamo anche la velocità questo stronto di un drago questo cosa fa? provoca danni ai combattenti forte con durità di 25 entità o superiori dobbiamo cercare di salvare questo una bella carica da dietro dopo che li abbiamo maledetti e tutto ah c'è il draghetto da far fuori anche è vero vabbè questo anche se lo perdiamo non mi interessa niente provoca danni ai combattenti nooo ieri non è lì? ok va bene le furia sono lì hello lassaro signore furia andatemi sugli arcieri furia pigliati un attimo anzi no facciamo questo guarda di livello 2 qua ah mi vai contro questo oh aspetta qua c'è ancora qualcuno ok qua l'abbiamo preso da dietro ok cazzo 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 eh niente la morte accoglie il mio lord provoca danni numerosi non sono tanti ok ok questo in fuga eh niente vabbè questa l'ho persa perché da cocomero eh tiri non è tosto c'è anche sto maledetto drago qua non è tosto Scusa Non ha detto via da qui Ho capito male Qua c'è altra gente Aspetta Allora questo è in fuga Quello era in fuga Scusa Paki non volevo Oh il cane sotto Ho sentito troppo Facciamo fuori sto maledetto drago Ok il drago è andato Voi mandate da dietro i cavalieri E poi li prendiamo da dietro Sono rimasti solo i marauder Prova che danno i combattenti O solo questo Nooo Non sono stati nient'altro Peccato To Shubsky Ah che bello, se vi giri da una parte Loro scappano, quindi ricarichi E ritornano indietro Eh figa, Tyrion e Tyrion eh Poi si recupera anche gli HP alla fine Ok, questo l'abbiamo fatto fuori Niente Bastardo di Tyrion Vabbè dai Ora mi spiacciono purtroppo anche su giro Per poi